Domattina alle 9, presso il centro Avis del Monte Rosso a Bergamo, verrà presentato alla stampa e ai presidenti delle 158 Avis comunali il progetto di riorganizzazione della donazione. In un comunicato, l'Avis provinciale di Bergamo informa che dal 1 ottobre l'accesso alla donazione, alle visite e agli esami di idoneità presso l'unità di raccolta di Avis provinciale Bergamo sarà su prenotazione. Questa modalità garantirà una migliore organizzazione del fabbisogno di sangue. Il presidente provinciale Oscar Bianchi ha dichiarato che l'associazione è quindi chiamata ad un cambiamento culturale e ad un impegno comune per trasmettere informazioni corrette ai donatori e comunicare che la prenotazione porterà vantaggi per tutti. I tempi di attesa per i donatori saranno ridotti e la raccolta di sangue verrà così ottimizzata.